Buongiorno. Ha fatto discutere il progetto, reso pubblico nei giorni scorsi dall'architetto Antonello Boati, riguardante la riapertura dei navigli milanesi in vista dell'Expo 2015. Mediante la realizzazione di questo piano, presentato per il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano, si vuol rendere la metropoli ambrosiana più accogliente e vivibile di quanto sia oggi. Il progetto dell'architetto Boati non ha mancato di far discutere e di certo si prestano alcune critiche fondate. Non si può dire tuttavia che so manchi di originalità e che non tenda realmente a fare di Milano una città decisamente più vivibile e sana di quanto sia oggi, meno inquinata per intenderci. Collegare le acque della Martesana con la darsena di Porta Ticinese e riaprire la fossa interna facendo passare le acque del canale nelle centralissime vie Fatte Bene Fratelli, Senato, Visconti di Modrone, Francesco Sforza, Santa Sofia e Molino delle Armi, significa evidentemente riscoprire le radici più autentiche di Milano, città d'acqua e punto d'incontro di fiumi e torrenti dall'Adda Ticino, dal Seveso all'Ambro. Ma la riapertura della fossa interna porterebbe a un altro notevole risultato. Con tale provvedimento si porrebbero le basi per un'incisiva riqualificazione di zone periferiche oggi sacrificate al traffico e all'inquinamento cittadino. A nord verrebbe scoperto il Naviglio Martesana in via Melchiorre-Gioia. Tra parentesi, citiamo, bisogna precisare che il Naviglio Martesana scorre ancora oggi, come dire, arriva ancora oggi a Milano. Il Naviglio Martesana nasce dall'Adda, è stato ricavato dall'Adda e attraversa l'Abrianza per i comuni di Inzago, Gorgonzola, Cernuscusunnaviglio, Vimodrone ed entra a Milano attraversando le frazioni di Crescenzago e di Greco, di Gorla. Lì però, presso quella che in milanese si chiama la Cassina de Pomme, come definisce, no? Perché poi è stato interrato, nella seconda metà del secolo scorso è stato interrato, ma precedentemente, prima della copertura, attraversava appunto via Melchiorre-Gioia e arrivava nel centro di Milano per la via San Marco. Davanti alla chiesa di San Marco, in piena zona Brera, il Naviglio Martesana appunto si confluiva nelle acque della fossa interna. Quindi la riapertura della Martesana significa riaprire il tratto di canale che oggi è sotterraneo e che oggi è sotto appunto le vie Melchiorre-Gioia e San Marco. Mentre in zona ticinese la riapertura della fossa in via De Amicis si accompagnerebbe alla riattivazione della conca quattrocentesca di via Renna, punto di collegamento indispensabile tra il Naviglio interno e la darsena di porta ticinese. Dopo 80 anni di declino inarrestabile, la darsena riscoprirebbe finalmente la sua memorabile funzione di porto milanese. Inutile girarci intorno, quello di Boati è un progetto che non può non stare a cuore ai milanesi che amano questa città. Bisogna tuttavia riconoscere che tale progetto solleva numerosi punti interrogativi. La prima critica muove dalla constatazione, molto semplice, che i lavori costringerebbero il comune di Milano a bloccare la linea 1 della metropolitana per almeno tre mesi, provocando numerosi disagi alla circolazione delle persone. Il tracciato sotterraneo della metro, incrociando il tratto della fossa presso via Senato, renderebbe infatti necessario scavare in maggiore profondità un nuovo passaggio della metropolitana nelle fermate tra San Babila e Palestro. La seconda obiezione alla riapertura della fossa interna è quella che, a mio parere, è la più fondata. Si sostiene che molti edifici situati ai lati delle vie dove verrebbero compiuti i lavori, costruiti dopo gli anni della copertura della fossa, la copertura per intenderci avvenuta negli anni durante il fascismo nel 1929-30, presenterebbero problemi di stabilità perché i muri confinanti con il canale non sarebbero in grado di reggere la presenza costante di acqua. Credo che questa critica meriti di essere attentamente soppesata dai responsabili del progetto, i quali dovrebbero elaborare un piano dettagliato dei costi che i comuni, che il comune di Milano dovrebbe sostenere per pagare i lavori di ristrutturazione delle case che costeggiano numerose il canale. La terza obiezione si lega in certo qual modo a quella che si è appena citata. La riapertura del canale renderebbe necessario chiudere i parcheggi sotterranei situati negli spazi dove verrebbero fatte confluire le acque della fossa. Insomma, i problemi sono indubbiamente rilevanti, non c'è alcun dubbio. Toccherà però ai responsabili e all'architetto Boatti in primis fornire spiegazioni in merito alle misure che il comune di Milano dovrebbe adottare per far fronte alla situazione. Io credo tuttavia, ma questo è un mio parere, che anche qualora la spesa per la riapertura del canale dovesse lievitare notevolmente, i lavori meriterebbero di essere intrapresi, in ogni caso, per il bene della città che tornerebbe finalmente al suo volto più genuino e autentico. Riaprire il naviglio martesana presso la via San Marco e far resuscitare l'indimenticabile omonimo laghetto che nelle vecchie fotografie non cessa di affascinare gli occhi dell'osservatore di oggi è opera che francamente non si può rifiutare in nome di problemi di viabilità o di tenuta degli edifici. Ci sono questi problemi, per carità nessuno ha detto che non ci siano, ma vanno appunto affrontati. Riaprire un'amministrazione locale responsabile e quindi che abbia a cuore il benessere dei milanesi non dovrebbe esitare a far proprio questo progetto. La città, ripeto, verrebbe resa più vivibile e meno inquinata per quanti vi abitano, vi lavorano e vi soggiornano per pochi giorni. Credo che anche la regione e la provincia di Milano debbano sostenere il Piano Boatti, ovviamente la regione Lombardia. Non fosse altro che per le ricadute positive che l'iniziativa del Comune finirebbe per determinare nella gestione complessiva dei navigli e delle vie d'acqua lombarde. Il recupero dei navigli e la riapertura della fossa interna consentirebbero ai milanesi di avvicinarsi maggiormente alla storia e alle tradizioni della loro città. Questa purtroppo è una città piena di alienati, persone che lungi dall'essere fiere di appartenere a una città con una storia di tutto rispetto, spesso vengono a Milano solo perché sono costretti a lavorarci, credono che sia una città non degna di essere visitata e di essere amata. Noi dobbiamo cercare, almeno un'amministrazione comunale, ma anche noi cittadini, noi milanesi dovremmo invece cercare di rendere la nostra città il più attraente possibile. E qui ci termino citando un passo significativo. L'architetto Luca Beltrami, orson quasi 80 anni, criticò fortemente la copertura del naviglio in centro città, appunto come ho detto il naviglio venne chiuso negli anni del fascismo, nel 29-30. Luca Beltrami, un famoso architetto celebre per avere curato la restaurazione, la ristrutturazione meglio, del Castello Sforzesco, quindi una persona molto colta, mise in evidenza con parole memorabili, quale fosse il valore storico del naviglio, patrimonio inestimabile della metropoli Lombarda, scrive Beltrami. Per Milano questa fossa interna, oggi ritenuta inutile, era sino a ieri non solo giudicata indispensabile per ragioni di traffico e di comunicazioni, ma aveva una funzione e rapporto col problema della navigazione fluviale. È pur sempre la storia di Milano che rimane intimamente connessa al triplice circuito del Seveso, uno dei torrenti che scorrono tuttora a nord di Milano, del naviglio interno del re dei fossi, che documentano le varie fasi dello sviluppo di Milano e ricorda le coraggiose iniziative dei milanesi e ne costituisce la gloria anche di fronte allo straniero. Così, tra la pubblica indifferenza, si sta compiendo un'opera destinata a modificare il tradizionale aspetto estetico e storico di una larga zona della città. Vedremo gradatamente ridotta la visione di quel poco di verde che ancora rimane nell'ambito delle vecchie mura, ovviamente lui intendeva le mura medievali. Purtroppo quello che temeva Beltrami nel 1929 si avverò, perché nei fatti appunto la copertura del naviglio venne compiuta nonostante appunto le sue critiche, in senso contrario, e noi oggi ci troviamo quindi con una città invivibile, malsana, perché piena di smog e traffico, una città che i cui mezzi di superficie, i mezzi, mi riferisco al tram e soprattutto alle metropolitane, sono del tutto inadeguate, perché noi dovremmo avere perlomeno una rete di mezzi paragonabile a quella di Monaco di Baviera o a quella di Londra. Non è così purtroppo e quindi Milano è una città invivibile. Io credo che per cercare di rendere Milano una città da un lato più moderna, ma dal lato anche una città più vicina alla sua storia, alle sue tradizioni, io credo che per fare questo il piano dell'architetto Boatti, quello quindi di riaprire il naviglio interno, potrebbe essere un buon piano, ovviamente realizzato con le dovute cautele e soprattutto con le dovute misure. Grazie.